Ciao ragazzi, oggi vi racconto il mio viaggio per arrivare ad Abu Dhabi. Ho infatti trascorso per il compleanno della mia mamma cinque giorni alla scoperta della città. Era ormai da tanto tempo che volevo fare un viaggio solo io e lei e finalmente tra tutti i vari impegni sono riuscita ad organizzarlo. Eccoci qua, direzione Milano-Malpensa, erano circa le 9.55 del mattino. Abbiamo subito imbarcato le nostre valigie, ovviamente pesantissime, e ci siamo dirette verso la lounge dove abbiamo aspettato, insomma, capisse il boarding del nostro volo. Salite sull'aereo, ci siamo sedute, bevuto un buon drink di benvenuto e poi siamo decollate. E io invece sono crollata in un sonno profondissimo e una volta svegliata hanno servito il pranzo, nel mentre mi sono anche guardata qualche episodio della nuova stagione di Scam. Ho mangiucchiato, tutto molto buono, non so, secondo me il cibo in aereo è buonissimo, fatemi sapere se solamente io lo penso. Questo gelato era spaziale e con questo tramonto meraviglioso siamo atterrate e giunte a destinazione. Questo è l'aeroporto di Abu Dhabi e dopo aver passato i controlli molto velocemente siamo arrivate nel nostro hotel e merita assolutamente una panoramica generale questa stanza perché è stupenda. Abbiamo posato le cose al volo e poi ci siamo cambiate perché ci aspettava una prenotazione in un ristorante libanese, tra l'altro buonissimo. E sì, la vista dalla camera era davvero pazzesca. E dopo aver fatto un piccolo aperitivo con questo benvenuto ci siamo dirette verso la hall e aspettato il nostro transfer. Una volta arrivate al ristorante abbiamo ordinato qualsiasi cosa perché eravamo super affamate e devo dire che la cucina libanese ci è piaciuta molto. Qui ero particolarmente felice diciamo, ma spoiler sono crollata due minuti dopo. Ho schincere al volo e nanna notte. Ciao ragazzi, oggi andiamo a realizzare una bella piega insieme poiché devo raccontarvi che c'è una novità in casa GHD, ovvero una nuova limited edition. Vi faccio vedere i due tools con cui andremo a realizzare la mia piega oggi. Questa collezione si chiama Color Crush e appunto ha questi colori super sgargianti. Ora sono rivestiti con questo colore verde lime, per venire questa voglia di primavera, estate, ma ci sono anche altri colori stupendi, pazzeschi. Anche questo colore qua che sto indossando. Comunque andiamo a realizzare prima una bella piega utilizzando GHD Helios, ma prima di tutto termoprotettore. Questo qua è l'iconico GHD Bodyguard che vado a vaporizzare. Come sapete grazie alla tecnologia di GHD Helios che i capelli si asciugano in pochissimi tempo, tanto ricevere che anche in omaggio l'ha da GHD Helios. GHD Helios toglie completamente il rispetto fresco ed ha le tante che in pochissimi minuti i miei capelli sono completamente asciutti. Siamo ora a GHD Kronos. Passo ora alla realizzazione delle mie onde utilizzando GHD Kronos. Acquistandola tra l'altro riceverete inclusa la pochette termoresistente, dello stesso colore, super bello, così anche da portare in viaggio sapete dove metterla. Tra l'altro ora che c'è la festa della mamma, questi secondo me sono dei regali davvero azzeccati. Le lamelle in ceramica hanno un finish ultra gloss, infatti i capelli poi risultano super lucenti, perfetti in una sola passata. Poi come vedete la Styler scorre super velocemente e guardate, c'ho letteralmente, si spiega senza parole. L'effetto è incredibile. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi alla newsletter poiché avrete il 15% di sconto sul primo ordine. Tra l'altro acquistando questa limited edition avrete la personalizzazione sui tools gratuita. Ultima ciocca e poi tranquilli che andiamo ad aprirli, anche se oggi volevo una piega bella, voluminosa e direi che ci sono riuscita. Cosa vado a fare ora? Utilizzo lo Slick Toll che è questo olietto di GHD. Si legge anche dalle fonti di calore, infatti si può utilizzare comunque anche prima dello styling, prima dell'asciugatura. Ora, piccolo trucchetto per aprire i vostri boccoli o comunque le vostre onde. Passate con le mani. Ragazzi, ma la meraviglia, ma poi quanto sono luminosi. Beh, morbidi non lo sentite, ma sono morbidissimi. Invito a scoprire meglio la collezione GHD Color Crush. Vi lascio qua il link per andare direttamente sul sito. Tra l'altro ci attivo una super promo dal 29 aprile al 12 maggio per la festa della mamma e acquistando la collezione GHD Color Crush riceverete in omaggio questo style gift set che comprende questo pettine super bello firmato GHD con tutta questa fantasia bellissima anche in estate, GHD Bodyguard, quindi l'iconico termoprotettore, e la pochettina dove tenere tutte queste cosine di velluto rosa bellissima e super capiente. a sfoggiare la mia super piega.